Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella e lasciare un mi piace. Grazie. Oggi è un giorno di lutto per la comunità di Radio F. È morto a soli 55 anni Stefano Rapezzi, una delle anime dell'emittente diretta da Paolo Pacelli. A darne notizia la pagina Facebook ufficiale. Oggi è un giorno di lutto per tutta Radio F, staff, ascoltatori, amici e parenti. Il nostro caro Stefano Rapezzi si è spento dopo una breve e dolorosa malattia. Stefano è stata una persona molto apprezzata, sempre impegnato come animatore, speaker, cantante e protagonista degli eventi estivi della radio. Molto conosciuto in Valdichiana anche per essere stato postino accesa. Da chi ha avuto modo di conoscerlo da vicino, è descritto come un ragazzo di grande bontà e volontà. Adesso lavorerava sempre alle poste, al centro di smistamento di Arezzo. Oltre a essere un grande speaker per lui, ho il rispetto e la stima che si deve a un fratello. Da quando ci siamo conosciuti ho dato tanto spazio alla sua creatività. È uno di coloro che ha reso il successo della radio, un amico fraterno e mi mancherà molto, ha dichiarato il direttore Paolo Pacelli. I due conducevano insieme il programma della domenica mattina Mai sentito alla radio, performance radiofoniche che lo hanno portato fino alla corrida di Carlo Conti in prima serata su Rai One, dove si distinse con la sua esibizione. Era anche ospite fisso dei concorsi di bellezza di Miss Reginetta. Da oggi pomeriggio la salma è esposta presso la sala mortuaria dell'ospedale San Donato di Arezzo, con orario di apertura dalle 8 alle 20. Il funerale si terrà invece alle 15.30 di giovedì 5 ottobre alla chiesa di Santa Lucia, a Cesa.